Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Eclatanti novità sull'inchiesta relativa alle spese pazze dei gruppi consigliari della regione. La procura di Campobasso continua le indagini anche per gli anni 2012-2013, ma intanto la Corte dei Conti del Molise ha emesso sentenze per recuperare il danno erariale anche a carico dei consiglieri, le cui posizioni sono state archiviate in sede penale. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Giovanni Minicozzi. Riemerge prepotentemente la vicenda collegata alle spese pazze sostenute dai gruppi consigliari di Palazzo Moffa nel periodo 2006-2011 e negli anni 2012-2013. Come è noto, il PM Nicola D'Angelo, che ha indagato sotto il profilo penale 32 consiglieri regionali della legislatura 2006-2011, ha archiviato, sicuramente con valide motivazioni, gran parte degli inquisiti ed ha rinviato a giudizio Michele Picciano, Michelangelo Bonomolo, Sabrina De Camillis, Enrico Gentile e Francesco Di Falco. Altre due persone sono in attesa dell'udienza davanti al GUP. Inoltre, sempre la procura di Campobasso e sempre il sostituto Nicola D'Angelo, ha avviato una seconda inchiesta su indagini effettuate dalla Guardia di Finanza relativa agli anni 2012-2013, ancora non definiti dalla Procura stessa. Fatti questi, già noti alla pubblica opinione, rimasta allibita da come sono stati sperperati e saccheggiati in sette anni circa un milione di euro di soldi pubblici destinati alle attività istituzionali dei gruppi consigliari utilizzati invece in cene e acquisto di gioielli, gelati, cioccolatini, panini, caffè e biglietti di ingressi in locali notturni con spettacolo di rappedenze. La novità invece viene dalla Procura della Corte dei Conti del Molise che ha emesso già diverse sentenze per recuperare il danno erariale causato dai consiglieri regionali nella gestione allegra dei fondi ai gruppi. La notizia, circolata nelle ultime ore, avrà sicuramente un rilievo di carattere nazionale poiché a pagare sentenze della Corte dei Conti alla mano dovranno essere anche i consiglieri regionali che sono stati archiviati o prosciolti dalla Procura della Repubblica di Campobasso. Peraltro la stessa Corte dei Conti ha chiesto il recupero del danno erariale con sentenza definitiva anche nei confronti di alcuni consiglieri regionali sui rendiconti contestati per il 2012 e 2013. Anche in questi anni è successo di tutto nonostante le norme più restrittive imposte dal decreto Monti sui costi della politica. Consulenze, tra le quali una psicologa, viaggi, revisioni auto, soldi elargiti ai partiti, acquisto libri, autoprodotti. Altre sentenze della Procura della Corte dei Conti verranno emesse nelle prossime settimane con l'obiettivo sacrosanto di recuperare tutto il malloppo sperperato. A proposito di privilegi, è da segnalare infine l'inchiesta diffusa dal Fatto Quotidiano sui pernottamenti in una struttura dell'esercito a due passi da Roma Termini utilizzata come albergo da alcuni parlamentari al costo di 7 euro a notte, più un euro per le pulizie. Tra i fruitori del servizio, ministri, sottosegretari, l'ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni e la consulente del ministro Lorenzin, la molisana Sabrina De Camillis a gestire l'immobile, è un ex maresciallo dei carabinieri cacciato dall'arma dopo una condanna passata in giudicato. Insomma, i privilegi e le malefatte della casta non hanno mai fine. Nonostante la firma al Ministero che ha concesso la cassa integrazione per un anno ai dipendenti dello zuccherificio del Molise c'è il rischio di perderla se l'eventuale compratore decidesse di risolvere il contratto di fitto del ramo d'azienda tra la SRL e la SPA. Intanto i sindacati da settimane sono in attesa di un incontro in regione. Sentiamo Manuela Iorio. Il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto di concessione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti dello zuccherificio del Molise per il periodo che va dal 17 agosto 2015 al 16 agosto 2016. La politica è soddisfatta, in questo caso gli assessori Vittorino Facciolla e Michele Petraroia, i lavoratori invece un po' meno. E non perché la notizia della firma non sia una buona notizia, ma perché la beffa potrebbe essere dietro l'angolo. Il contratto di fitto del ramo d'azienda tra la SPA e la SRL è infatti in vigore fino al 31 gennaio 2016 con la possibilità per l'eventuale nuovo compratore di risolverlo in maniera unilaterale. E' quest'ultima clausola che non fa dormire sonni tranquilli ai dipendenti che rischiano di trovarsi senza la mobilità e con la cassa integrazione revocata. Le preoccupazioni infatti sono tutte concentrate sul futuro. Anche la pubblicazione del nuovo bando di vendita, e il decimo, con l'importo a base d'asta immutato rispetto al precedente bando, ha lasciato più di qualcuno perplesso. Le domande dovranno arrivare entro il 23 dicembre, proprio prima di Natale. Ci sarebbe un gruppo interessato a fare ancora zucchero, ma ci sarebbe anche una società, la Novamont, che nella sua visita allo stabilimento fu personalmente accompagnata dall'assessore Facciolla e che invece vorrebbe trasformare lo zuccherificio in una fabbrica che produce bioplastica, con quali ricadute sul territorio, sia in termini di occupazione che di impatto ambientale, non è dato sapere. I lavoratori sono preoccupati, sindacati pure, e le richieste di questi ultimi di un incontro in regione per conoscere reali progetti di rilancio dell'azienda sono per ora rimaste solo richieste sulla carta. Per l'ennesima volta si è persa una buona occasione per legiferare in maniera corretta e per riorganizzare l'assetto regionale in modo funzionale. Così l'ex presidente della regione, Michele Iorio, in relazione alla legge di riordino delle province approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Per l'esponente della minoranza di centrodestra la norma risponde solo all'esigenza, seppur giusta e necessaria, di risolvere il problema del personale in esubero delle province. Centralizza ancora di più le competenze in mano alla regione, già burocraticamente carica. Siamo davanti, conclude Iorio, a una vera e propria mancanza di un progetto politico chiaro che risponda in maniera adeguata ed esaustiva alla riforma costituzionale. Firmata la convenzione tra l'assessore regionale al lavoro, Michele Petraroia, e il ministro Giuliano Poletti sul riordino dei centri per l'impiego. Nei prossimi giorni, rende noto l'assessore, saranno esaminati gli ultimi adempimenti. I struttori finalizzati a predisporre due subconvenzioni che l'assessorato sottoscriverà con le province di Campobasso e di Isernia per la gestione delle politiche attive e dei servizi per l'impiego sul territorio. A Trivento è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Rita Fossa-Ceca, la dottoressa uccisa in Kenya e intanto nel paese africano. Sono stati tutti arrestati gli autori della rapina che è costata la vita alla donna. Il Daily Nation, quotidiano locale, ha raccolto la drammatica testimonianza del padre di Rita rimasto ferito, della madre e dello zio sacerdote, che erano con lei e sono ricoverati in Kenya. I funerali si svolgeranno domenica nel Duomo di Novara. Sentiamo. Una fiaccolata a Trivento per ricordare Rita Fossa-Ceca, il medico di 51 anni nata e cresciuta nella cittadina molisana e uccisa sabato notte in Kenya durante una rapina in un villaggio dove svolgeva volontariato per l'associazione For Life Onlus. Lo faceva da anni. Un corteo di concittadini e amici che la conoscevano e amavano per ricordare una donna, un medico, una molisana, esempio di umanità, bontà e altruismo. Un corteo partito dalla rotatoria all'ingresso di Trivento, la sosta davanti alla casa dei genitori di Rita, dove sono state deposte le candele. Nella chiesa di Santa Croce, dove parroco Don Luigi di Lella, che era in Kenya con Rita, le parole il dolore e il ricordo del vescovo Domenico Scotti. Intanto, come riferisce il quotidiano, Kenyota Daily Nation, citando le autorità locali, sono stati tutti arrestati sei componenti della banda che ha assaltato la casa dove è stata uccisa Rita e ferito il padre Giovanni, ricoverato in Kenya insieme alla moglie Michelina e a Don Luigi di Lella. In questa foto è ritratto proprio con il prete. I molisani sarebbero dovuti partire il giorno successivo alla rapina insieme a Rita Fossaceca, che lavorava all'ospedale di Novara. Sempre il Daily Nation ha raccolto la testimonianza del sacerdote. Due uomini hanno saltato il muro di cinta della casa mentre stavamo cenando, ha detto Don Luigi, e hanno cominciato a picchiarci perché volevano i soldi. Quando Rita ha visto i suoi genitori che venivano malmenati, si è opposta ai malviventi e uno di loro ha sparato da vicino, lei è morta all'istante, ha continuato ancora scioccato. Altri quattro uomini erano armati, ci hanno trascinato sul pavimento e hanno strappato dalle mani anelli, catene comprese le fedi. Hanno raccontato ai genitori della dottoressa una rapina in cui sono rimaste ferite anche due infermiere e che ha visto coinvolte persone della casa dove erano i molisani, arrestati infatti cuoco, lavandaio e giardiniere. I funerali di Rita Fossaceca si svolgeranno domenica nel Duomo di Novara. Poi il corpo della dottoressa sarà portato a Trivento per la sepoltura. Una interrogazione alla presidente della regione Paolo Frattura affinché si attivi per porre rimedio alla grave situazione che sta interessando alcune strade dell'area del Basso Molise dopo il maltempo dei giorni scorsi. A presentarla il consigliere Francesco Totaro, capogruppo del PD a Palazzo Moffa, prima che il peggiorare delle condizioni meteo aggravi ancora di più la situazione, ha detto auspico, un celere risolutivo intervento del governatore che in accordo con il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e con tutti i soggetti istituzionali interessati, elabori un piano di interventi per ripristinare la percorribilità delle strade in questione ai relativi interventi di messa in sicurezza. Presentato a Isernia il piano di sviluppo rurale finanziato dalla regione a illustrare le possibilità di aiuto economico per le imprese agricole e l'organizzazione regionale della Confederazione Italiana Agricoltori. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. I PSR, piani di sviluppo rurali della regione Molise, cambiano filosofia di intervento, non saranno più destinati a finanziamenti a pioggia, ma serviranno a potenziare attività innovative e indirizzate alla crescita produttiva e qualitativa delle coltivazioni. I soldi ci sono, ma avranno uno specifico utilizzo. Se ne è parlato a Isernia, la provincia, nel corso di un incontro organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Quanti soldi ci sono? E entro quando scade la domanda. Allora, intanto parliamo di aziende agricole in generale, dando una priorità alle aziende zootecniche, alle aziende cerealicole, alle aziende ortofrutticole, alle aziende che fanno bio. È una priorità, non è un'esclusività. Le risorse in questa prima sottofase, noi abbiamo previsto, insieme alla regione, di concerto con la regione, di aprire un bando e farlo rimanere sempre aperto, almeno per due step, ovvero al 31 di marzo è la scadenza del primo step e al 31 di luglio, 2016 ovviamente, è il secondo step. Entrambi gli step hanno una dotazione finanziaria che però è fluttuabile rispetto eventualmente alle richieste e più precisamente abbiamo 3 milioni e mezzo di euro sugli investimenti per il primo step e 3 milioni e mezzo per il secondo step e un milione e mezzo di euro per il primo step e il secondo step per i giovani che si insedono in agricoltura come premialità. Che cosa bisogna avere? Un'azienda agricola quindi, ma anche della terra, che cos'altro? Insomma, chi è che può fare questa domanda? Intanto devo dire che non è un bando aperto a tutti, è un bando aperto a aziende che hanno una determinata opportunità ma soprattutto un intento a diventare competitive. Questa è una priorità assoluta che viene rimarcata anche nel piano di sviluppo rurale. Quindi c'è una certa preclusione, ma io dico anche un'inversione di tendenza culturale rispetto a quando si pensava di poter prendere il premio giusto per usufruire di una premialità e non fare nulla. La tendenza è completamente diversa, anche per quanto ci riguarda, è quello di accompagnare le aziende che hanno un minimo di strutturazione ma che soprattutto vogliono scommettere, vogliono competere con il futuro della produzione agricola e agroalimentare ma vogliono scommettere anche in termini di redditività. Le aziende che sono sottodimensionate purtroppo non potranno accedere a questi premi, a queste agevolazioni, ma è anche scondato perché l'investimento diventerebbe troppo oneroso sia per i fondi pubblici ma anche per la stessa azienda perché poi ricordiamo che c'è comunque un contributo di quota privata. Intanto all'interno del cosiddetto decreto giubileo il senatore Roberto Ruta ha presentato un emendamento per fermare le trivelle. Non si può non tenere conto, ha sottolineato il parlamentare del PD, che dieci consigli regionali si sono espressi contro le autorizzazioni per le ricerche di idrocarburi e gas naturale. L'emendamento di Ruta è stato sottoscritto oltre che dal PD anche da senatori di partiti non organici alla maggioranza. La CGL Molise lancia l'allarme, c'è un'Italia sempre più a doppia velocità, sono allarmanti i dati sulle differenze retributive tra Nord e Sud, intanto il sindacato torna a chiedere un impegno straordinario che ponga al centro il tema del lavoro, i suoi diritti e la crescita dei redditi, il servizio. Il premier Renzi parla di Italia in ripresa dalla crisi e con lui gli esponenti del suo governo. Sulla scia del primo ministro, commentando i dati, Istat 2014, anche il governatore, frattura, ha usato toni trionfalistici. Il Molise sta ripartendo, ha detto la scorsa settimana, intanto la CGL regionale torna a ribadire con forza la necessità di un impegno straordinario che ponga al centro il tema del lavoro, i suoi diritti e la crescita dei redditi. Lo fa alla luce degli allarmanti dati sulle differenze retributive tra nord e sud dell'osservatorio Job Pricing pubblicati su Repubblica.it. Il sindacato evidenzia come ci sia un'Italia a due velocità, con un centro sud in cui i livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile, sono allarmanti e per quanto riguarda le retribuzioni lorde annue, sono in media più basse del 30% rispetto al centro nord. Nello specifico il Molise si colloca al diciassettesimo posto con una retribuzione media di 20.660 euro, quasi 11.000 euro in meno rispetto alla Lombardia al primo posto. Tutto questo in un contesto dove le aziende soffrono, le vertenze aperte e irrisolte sono tante, sono migliaia i poveri assistiti da associazioni e caritas, mentre la politica continua ad avere indennità alte, privilegi che stridono con le difficoltà della gente comune di pensionati con la minima. Senza un vero impegno su lavoro, diritti e crescita dei redditi, sottolinea la CGL, l'economia molisana non troverà un vero momento di ripresa perché con redditi così bassi si rischia di deprimere la domanda interna, rendendo sempre più difficile prospettare una nuova visione di risalita economica e sociale. È ricoverato in Prognosi riservata un autista polacco di 22 anni, coinvolto in un grave incidente avvenuto lungo l'autostrada 14 a poca distanza dal casello di Termoli per cause da accertare il giovane che si trovava alla guida di un camion ha tamponato il rimorchio di un tir e si è schiantato contro il guardrail rimanendo incastrato nell'abitacolo. Per consentire i soccorsi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Termoli. Il 22enne ha riportato un politrauma ed è stato trasportato all'ospedale Santimoteo da un'ambulanza del 118 e della Misericordia sul posto la polizia autostradale di Vasto che ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico in direzione nord. Riunione organizzativa al Tribunale di Isernia del Comitato per la Difesa della Corte d'Appello del Molise sono intervenuti il presidente della NM Molise Enzo Di Giacomo esponenti del mondo politico sindacale e professionale che hanno concordato una strategia unitaria e le iniziative da adottare per la difesa della giustizia di prossimità nella nostra regione. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Prosegue a tappe forzate il cammino organizzativo del Comitato Popolare per la difesa della Corte d'Appello del Molise e della giustizia di prossimità. Si tratta di raccordare le varie proposte programmando iniziative e manifestazioni coordinata da Enzo Di Giacomo della NM Molise si è tenuta una prima riunione del Comitato al Tribunale di Isernia riservata ai rappresentanti dei partiti dei movimenti dei sindacati e delle organizzazioni professionali. Di Giacomo a inizio dei lavori ha spiegato che non c'è solo un percorso di difesa al riccio dell'attuale struttura della giustizia in Molise ci sono anche varie altre possibilità sul tappeto come quella di allargare i confini giudiziari della Corte d'Appello a tribunali e territori confinanti insomma una battaglia che il Molise mostra di voler combattere perché la messa in discussione dell'attuale struttura organizzativa della giustizia mette in pericolo anche il destino di centinaia di famiglie e di lavoratori del settore pubblico che sarebbero costrette a trasferirsi dal Molise numerose le adesioni a quella che è sostanzialmente una battaglia in difesa dell'autonomia regionale. La regione c'è e ci sarà a fianco del Comitato per non penalizzare non solo la provincia di Isernia ma l'intero territorio regionale per cui questa è una battaglia che ci auguriamo con l'aiuto soprattutto della delegazione parlamentare molisana e soprattutto con la partecipazione di tutto quanto il territorio e i cittadini di poterla vincere. Diversamente saremmo molto molto preoccupati perché andremo indietro di anni. Come anche la Camera di Commercio a fianco di questa battaglia per la giustizia in Molise? Sì è tutto il mondo camerale noi partecipiamo anche con Union Camera oltre che con le due camere singole è perché è necessario essere tutti insieme presenti a questo tavolo perché chiaramente togliendo dei servizi a un territorio non si può più vivere in questo territorio e soprattutto le imprese non possono operare così come potrebbero operare. Credo che sia una battaglia di tutti è lodevole l'iniziativa che stanno portando avanti il presidente dell'associazione dei magistrati il dottor Di Giacomo e noi come partito stiamo al suo fianco perché credo che sia una battaglia di civiltà e una battaglia di difesa del nostro territorio. Anche i sindacati al fianco di questo movimento per la difesa della giustizia in Molise? Sicuramente il sindacato deve scendere in campo in questo momento perché è una battaglia per i lavoratori e per i cittadini del Molise verrà a meno il diritto a chiedere ed ottenere giustizia per l'aumento dei costi che subirà il cittadino molisano per avvicinare per intraprendere una causa e problemi ci saranno dal punto di vista anche economico perché il trasferimento di numerosi lavoratori in altre sedi accorpanti comporterà anche una desertificazione dei comuni del Molise. Circa mille carte di identità in bianco e il bottino del furto compiuto questa notte all'ufficio Anagrafe del comune di Campobasso i ladri hanno usato la fiamma ossidrica per aprire la cassaforte il colpo è stato scoperto questa mattina dai dipendenti indaga la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi C'è un altro Molise al di là dei confini regionali ed è un Molise anche più attivo e vitale di quello ufficiale intanto in Belgio una comunità di riccesi si è gemellata con il paese d'origine sentiamo Giovanni Di Tota La firma della carta dell'amicizia poi il gemellaggio le comunità di Riccia e Chapelle e Erlemon comune belga della provincia Vallone dell'Inno insieme oggi per ribadire i concetti di democrazia solidarietà tolleranza e libertà la firma del documento tra il sindaco del comune molisano Micaela Fanelli e il borgomastro Carl De Vos a favorire l'incontro la presenza nel paese di un buon numero di residenti di origine iriccese emigrati in Belgio tra gli anni 50 e 60 che mira a rinforzare il legame ha detto La Fanelli con i cittadini residenti in paesi stranieri e a favorire una serie di scambi imprenditoriali culturali e turistici sono 1.134 i cittadini di origine riccese con doppia cittadinanza iscritti al 2014 nell'elenco dell'anagrafe italiana dei residenti all'estero oltre 20 le nazioni in cui è attestata la loro presenza un altro molise oltre i confini nazionali con le comunità più numerose in Canada Argentina al di là dell'oceano ma anche in Inghilterra Belgio e Germania nel vecchio continente centinaia di migliaia di persone ormai di quarta generazione che tuttavia continuano a voler tenere saldo il legame con la terra di origine dei loro avi nonostante tutto perché quei molisani che lavorano e conquistano posizioni di vertice all'estero quelle comunità che non vogliono spezzare quel filo che continuano a parlare la nostra lingua a mangiare il nostro cibo e a far vivere le nostre tradizioni nel molise vero quello sulla cartina geografica non trovano le risposte che vorrebbero quando si tratta di montare in aereo per andarli a trovare all'estero e fare un po' di pacchia a spese dei contribuenti dal molise i politici sgomitano è stata inaugurata al circolo sannitico di Campobasso una mostra fotografica ideata dall'associazione Italia Nostra scopo degli organizzatori è sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del piano energetico regionale che non tiene conto delle conseguenze sul paesaggio la mostra resterà aperta fino a domani sentiamo Silvia Valente il paesaggio storico naturale è l'inganno del tecnopaisaggio questo è il titolo della mostra fotografica ideata da Italia Nostra l'associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale del paese una raccolta di fotografie che racconta le bellezze del Molise ma anche e soprattutto i disastri ambientali provocati dalle nuove tecnologie per produrre energia alternativa Italia Nostra va dritta al punto contestare la bozza del piano energetico regionale cioè il documento che contiene gli interventi da mettere in atto per produrre energia l'associazione punta il dito sull'eolico fin troppo adoperato in Molise con effetti disastrosi sul paesaggio ma nonostante ciò il piano energetico regionale continua a prenderlo in considerazione anche se il limite per la produzione di energia da fonti rinnovabili è stato già raggiunto così come ha sottolineato Gianluigi Ciamarra presidente di Italia Nostra a Campobasso questa è una mostra che raccoglie foto di bei paesaggi del nostro territorio e foto anche di guasti del territorio ne abbiamo inframmezzate fra le altre e sì il fine di questa mostra è quello di far conoscere il Molise il bel Molise il bel paesaggio che abbiamo e nello stesso tempo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui guasti appunto che potrebbero esserci continuare ad esserci perché alcuni ce ne sono bisogna trovare altre soluzioni che ci sono evitando di deturpare il territorio il piano energetico va rivisto va rivisto seriamente in Italia l'eolico contribuisce minimamente alla produzione di energia solo l'1,4% dell'approvvigionamento generale ha detto Enzo Cripezzi esperto del settore e responsabile l'IPU di Puglia e Basilicata che ha sottolineato gli scarsi risultati dell'eolico in Molise è un delitto perseverare perché le alternative ci sono come ha spiegato ai nostri microfoni come in tutta Italia noi abbiamo una bacinella che è bucata piuttosto che continuare a cercare di capire come aprire di più il rubinetto dovremmo cercare di iniziare a tappare i buchi senza di questo ogni piano energetico è fallimentare e rischia di agevolare solo le lobby quindi innanzitutto puntare su efficientamento trasporti tutti quei settori che non sono energivoli ma conciliano anche interessi sociali e sulla produzione limitarsi a cercare di conciliare quelle energie come appunto abbiamo detto per esempio il solare fotovoltaico o anche nel caso del Molise dove le temperature invernali sono quelle che sono per esempio anche sul solare termico non prendere atto dei limiti delle rinnovabili significa soltanto fare delle cose tanto per farle ma ingrassare poi le solite tasche e ora andiamo a Isernia dove i ragazzi della cooperativa Lai Lavoro Anch'io hanno organizzato la tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi il servizio di Sergio Di Vincenzo tradizione rispettata come sempre in vista del Natale i ragazzi della cooperativa Lai Lavoro Anch'io di Isernia hanno aperto le porte della fabbrica delle idee organizzando una festa per lo scambio degli auguri un'occasione per stare insieme con gli amici di sempre e con quelli nuovi ma anche per mostrare tutti i progressi fatti alla lunga serie di prodotti artigianali e artistici si sono aggiunte le produzioni di miele e candela in pura cera d'api un esempio di grande ingegno e laboriosità Forse proprio da chi non ci si aspetta tanto abbiamo invece il massimo segno di una partecipazione ai bisogni della società e questi ragazzi questa cooperativa ci mette anche nella disposizione d'animo di credere ancora che ci sono dei valori che vale la pena non solo ribadire ma sostenere e alimentare questo è il privilegio della LAI la loro presenza e anche i loro lavori non sono segni indifferenti ma è un modo anche questo di manifestare la loro partecipazione ai bisogni e alle attività dell'umanità anche i manufatti sono manufatti che possono essere usati benissimo e quindi non sono oggetti qualsiasi la festa ha offerto anche lo spunto per presentare le nuove idee regalo della collezione natalizia 2015 fa un regalo ai tuoi pensando a noi ecco quindi la cooperativa è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 5 del pomeriggio ininterrottamente e siamo pronti ad ospitarvi i prodotti quest'anno abbiamo la nuova produzione del miele quindi il miele per fare i dolci di Natale a disposizione di tutti poi tutti gli oggetti nostri e la piccola chicca sono i fagioli e questa è stata anche l'occasione per ricordare Giorgio Cristina socio fondatore presidente della cooperativa scomparso di recente i ragazzi della Lai hanno deciso di andare avanti per far sì che quel seme piantato tanti anni fa continui a dare buoni frutti è una pietra miliare che ci darà per sempre il segno e il solco di questa cooperativa che continuerà a lavorare ancora sempre di più sul solco che lui ha segnato onestà correttezza disponibilità e tutto ciò che si fa lo si fa sempre e comunque per il bene di queste persone per integrarle sempre di più è tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito arrivederci a